Nella domenica in cui riposa il Matelica, il San Nicolò ha la possibilità di guadagnare punti proprio sulla seconda della classe e ridare slancio al proprio torneo. I biancazzurri di Epifani, reduci da un inizio 2017 a velocità ridotta rispetto alla prima parte di stagione, saranno ospiti del Romagna Centro. Dopo l'1-1 interno contro la Rega Natese, che ha raffreddato gli entusiasmi in casa San Nicolò dopo l'esploit sul campo del Matelica, c'è voglia di tornare a conquistare i tre punti. Un'impresa riuscita solo una volta nelle ultime cinque occasioni, proprio nel recupero con la squadra di Mecomonaco risolto dal blitz di Massetti. A fronte di due sconfitte ad opera di Fermana e Vispesaro e altrettanti pareggia il Bonolis, dove sono riuscite a strappare il punto sia Monticelli che Rega Natese. Non proprio due corazzate, ma comunque in grado di ingabbiare il gioco dei Terramani. Se il primo posto della Fermana oggi appare lontano e difficile da insidiare, sono nove i punti di differenza, nulla è cambiato in ottica play-off. Il San Nicolò occupa il quarto posto, con quattro punti di vantaggio sulla Vastese, prima squadra fuori dagli spareggi, mentre Vispesaro e Matelica restano nel mirino con una gara in più rispetto ai Biancazzurri. Agli uomini di Epifani, però, servirà fare bottino pieno domani a Martorano di Cesena, sul campo di un Romagna Centro in piena lotta salvezza. I romagnoli al momento sono la prima squadra salva, avendo due punti più del Pineto. E proprio alla squadra di Amaolo non dispiacerebbe ricevere un bel regalo indiretto dal San Nicolò. I pinetesi, reduci dell'ottimo pareggio ottenuto contro la San Maurese, incontrano sulla loro strada il fanalino di coda Castelfidardo, al quale non ha giovato neanche l'ennesimo ribaltone tecnico, via Cappellacci, a sua volta subentrato a De Angelis, per fare spazio a Bolzan. Ma i marchigiani venderanno cara alla pelle per giocarsi le ultime chance di rientrare nel discorso salvezza, transitando nel play-out. D'altronde, la griglia degli spareggi è a un solo punto e il campionato è ancora lungo. Tutto può ancora succedere.